Salve tutti e bentornati, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo a Windows Update ovviamente questa è una guida del 7 di marzo però c'è chi ha problemi a scaricare gli ultimi aggiornamenti di febbraio quindi se hai riscontrato problemi come questo dell'errore 0x870643 che non riesci ad installare così l'aggiornamento possiamo farlo diventare in questo modo, downloading, come puoi vedere scarica così l'aggiornamento sempre grazie al catalogo di Microsoft quindi su Windows Update ovviamente come ho detto aggiungeranno poi un altro aggiornamento di marzo però quello che ci è rimasto è la versione di Windows 10, versione 22h2 per sistemi basati per 64 di febbraio 2024 quindi in questo caso tu prova a scaricare l'aggiornamento sul link che ti ho lasciato in descrizione quindi vai su download, ovviamente l'aggiornamento deve finire come file .msu in passato ho realizzato un'altra guida quindi come puoi vedere ho installato così l'aggiornamento mio per il mio sistema operativo Windows 11 e mi è uscito scarica e installa aggiornamenti questo qua è il pacchetto che bisogna scaricare e installare su Windows una volta installato riavvia il tuo sistema quindi io ho avuto il problema a scaricare l'aggiornamento su Windows Update come puoi vedere cronologia degli aggiornamenti e l'ultimo aggiornamento che ho fatto è installazione riuscita il 3 di marzo quindi se hai problemi con il tuo aggiornamento puoi sempre trovarlo sul catalogo di Microsoft Update guardalo ogni giorno perché poi aggiungeranno sempre nuovi aggiornamenti quindi fa comodo scaricarli e installarli manualmente se hai problemi ad installarli su Windows Update quindi se adesso noi andiamo a scaricare il nostro aggiornamento io non posso installarlo perché questo qua è di Windows 10 al massimo scarico e installo questa versione Windows 11 però mi darà un errore perché ho già fatto questo aggiornamento quindi clicca sul file .msu scarichi così l'aggiornamento poi per l'installazione devi aspettare un paio di minuti perché ci vuole di tempo per installarlo una volta scadecato questo è l'aggiornamento questo qua è il file del pacchetto autonomo Microsoft Update ci clicchi sopra preparazione all'installazione in corso dell'aggiornamento programma di installazione Windows Update cioè questo aggiornamento non me l'ha dato perché non può applicarlo questo è per Windows 10 non è per Windows 11 quindi quindi se tu riscontri sempre i problemi con l'aggiornamento di Windows Update puoi sempre scaricarli e installarli manualmente ovviamente se hai problemi puoi sempre scrivermi sotto al video quindi commenta ti aiuterò e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao